Siamo fumo e cenere, siamo fumo e cenere Benvenuti amici di Intervista Rapper, oggi siamo qui con un made man, Yai Arde che praticamente è veramente un ragazzo tutto fare, siamo qui nel suo studio e volevamo chiederti un po' com'era nato il nome Yai Arde Allora ti spiego, io quando ero ragazzino praticamente ho iniziato ad avvicinarmi alla cultura hip hop dipingendo quindi appassionato al writing e io praticamente taggavo Arde e che tra l'altro questo nome me l'ha dato mio cugino che è praticamente la persona che mi ha avvicinato proprio a questo mondo lui era già appassionato, molto più grande di me, io lo seguivo e quindi di conseguenza mi ha contagiato praticamente e lì è nato il nome Arde poi recentemente ho iniziato a fare tipo le sporche nei pezzi tipo magari sai quelli dirty south, quelli un po' più trap e tutti io vedevo che tutte le persone dicevano, sai la classica Ye, yo, bella, si, così e io ho detto ma cazzo ma perché io devo fare le cose uguali agli altri allora ho detto faccio le sporche e ho iniziato a dire Yai, facevo Yai, Yai non è bene comunque perché è una cosa personale, personalizzata e poi ho detto, mica che bomba l'ho aggiunto, ho messo Yai, Arde e è nato con te perfetto la seconda domanda che ti poniamo è un po' come hai iniziato comunque a buttarti in questo mondo che è di pop ho iniziato, sì allora ho iniziato principalmente per passione mi è sempre piaciuto scrivere quindi passione per la scrittura passione per la musica e specialmente perché scrivendo canzoni ho la possibilità di esprimere determinate cose certe sensazioni, certe emozioni o magari situazioni che vivevo le esprimevo scrivendo su un pezzo di carta e magari quelle parole là erano parole che non riuscivo a dire di persona o magari in un discorso così che venivano fuori bravissimo ho iniziato a sfogare tutto scrivendo e da lì quando ho iniziato Final 2003 avevo se no più o meno 13 anni, 12 anni una cosa del genere e da lì non mi sono più fermato poi quando inizia la passione poi no non finisce più diventa una cosa proprio una droga una droga cioè stavo male, se non scrivevo stavo male cioè io dovevo scrivere per forza oppure anche per dire cosa ti succede durante la giornata cosa hai visto, cosa ti è successo c'è tante cose poi magari rimane anche un ricordo rimane un ricordo ascolto quella canzone e mi ricordo di quei momenti ma come può essere una canzone magari un po' triste e dico minchia, guarda in quel periodo che momento di merda che stavo passando cioè ricordi belli e ricordi brutti esatto, una via di mezzo sì tra un po' poi ci vediamo un altro video è vero gli occhi parlano ma porto sempre gli occhiali da solo almeno posso dire che va tutto bene a parole tu mi hai dato la forza per cominciare ora te la ripasso ne hai bisogno te per continuare dicono che sbagliare è normale ma lo stesso errore tre volte è difficile da perdonare vorrei avere il potere a pochi secondi giusto il tempo di sistemare questi stronzi per questo sono a pezzi tutti i giorni torna a casa tardi l'affetto te lo mostro quando tu torni quando ti sveglieresti speri che io sia cambiato se sono nato tondo non posso morire il quadrato se dovessi cambiare me la vivo con un nodo farei solo finta di essere ciò che non sono questa notte resto qui con te nei tuoi sogni dove sono come vuoi come il primo giorno quando era tutto perfetto questa notte resto qui con te per ogni istante sono quello che vuoi quando sarà mattina sarei da sola nel letto delle volte delle cose per scontate se le verdi le rimpiaggi per non averle pensate resto ancora seduto sopra qui credi nel vivo quel ricordo per sentirti più vicino l'orgoglio mi ha ucciso troppe volte tu lo sai come sono fatto io testa calda il cuore non parla forse la coda di paglia per tutte quelle volte che si mette e si sbaglia tu troppi difetti ma l'ho accettato faccio il duro ma è già da tempo che sono sprofondato più in basso di così non si può andare poi mi sento perso sembra che non ci sia niente da fare ho smesso di pensare a soluzioni dimmi cosa cambia stare lontani nella stessa stanza se la corda si rompe sono cazzi voglio vedere l'amore nei tuoi occhi quando mi parli questa notte resto qui con te nei tuoi sogni dove sono come vuoi come il primo giorno quando era tutto perfetto questa notte resto qui con te per un istante sono quello che vuoi quando sarà mattina stare da sola nel letto questa notte resto qui con te nei tuoi sogni dove sono come vuoi nei tuoi sogni dove sono come vuoi come il primo giorno quando era tutto perfetto questa notte resto qui con te questa notte resto qui con te nei tuoi sogni dove sono come vuoi nei tuoi sogni dove sono come vuoi come il primo giorno quando era tutto perfetto questa notte resto qui con te per un istante sono quello che vuoi quando sarà mattina stare da sola nel letto e sempre a livello di come hai iniziato un po' parlaci un po' della tua musica comunque in generale della mia musica allora come avviene il processo di scrittura di un testo magari allora come avviene il processo di scrittura di un testo praticamente la prima cosa che mi deve ispirare è il beat la base la musica cioè mettiamo già una parentesi nel senso che prima ero molto più legato all'hip hop quindi al concetto hip hop quindi mentalità così no io vedo solo l'hip hop no io ascolto solo l'hip hop col passare degli anni ho capito che diciamo che la passione proprio che mi avvolgeva era proprio la musica quindi io non mi sento di dire attualmente non mi sento di dire sono un rapper al 100% perché oltre alle pari mi piace anche cantare quindi magari canto i ritornelli quindi magari faccio delle strofe un po' più canticchiate e un po' più orecchiabili ma poi ci sta buttarsi sempre in... esatto sperimentare sperimento un po' di tutto assolutamente la prima cosa quindi che mi serve per scrivere un buon testo è un buon beat quindi se il beat mi prende subito sono in grado magari anche di scriverti un testo magari in un quarto d'ora, venti minuti perché talmente sono preso sono dentro il pezzo che mi viene proprio tutto automatico come faccio a scriverlo? semplicemente quello che racconto sono cose o che ho visto o che ho fatto che mi sono successe o magari storie di persone che stanno vicino a me e io magari racconto quella situazione e la racconto in prima persona mi può succedere tipo storytelling bravissimo tipo storytelling ne faccio molto poche di queste cose infatti è proprio raro più che altro scrivo più sensazioni che... vabbè ma... ottimo Girelli bene passiamo alle... e ne abbiamo un po' di domande ne abbiamo adesso ci guardiamo Fumo e cenere bella ti prendo dai borsi dopo ti sbatto contro il muro ti urlo addosso baby non prendermi per il culo dall'amore all'odio tradire il fare di mezzo al mare manco ci guardiamo in faccia ora vai non ti voltare e... sei stata l'unica che m'ha colpito chiudevo gli occhi insieme volavamo oltre l'infinito era importante come poche troppo tardi l'ho capito visto gli occhi i tuoi riflessi ne suoi quando ti ho tradito e tu piangevi percusa da me non te l'aspettavi io zitto mentre morivo dentro quando parlavi perché a volte le parole sai feriscono di più ora capisci come stavo il giorno in cui l'hai fatto tu giuro pensavo che nessuno al mondo ci avrebbe fermato sorridevo invece guarda ora come son conciato baby le cose non vanno mai come vorresti le persone non le apprezzi lina quando non le perdi e... se ripensa a quelle notti chiusi in camera il cuore che batteva lì impazzata eravamo forti solo io e te invece ora siamo solamente fumo e cenere all'amore non si credo più se al mio campo non ci sei tu sai voi non sei affiduta la verità più cosa mi hai già rito senza un perché ma vado avanti senza di te non so più un'idea da perdere che ha un culo e cenere ora ti porti da lontano mentre tu stai con un altro pepi io sbocco lei ma penso a te che cosa credi di notte io ti chiamo ma non mi rispondi mai sto vicino a quella porta sperando che tornerai sono un ingenuo l'amore sai che gioca brutti scherzi ho sbagliato con te tu giochi coi miei sentimenti non ci credo che tu sei felice se ti ho ferito porterai per sempre la mia cicatrice magari queste sono parole buttate al vento magari sei lì che mi stai pensando ogni momento magari questa è solamente una strana follia cosa sto a fare con lei se tu sei la vita mia e se ripensa quelle notti chiuse in camera il cuore che batteva lì impazzata eravamo forti solo io e te invece noi siamo solamente fumo e cenere all'amore non si credo più se al mio campo non ci sei tu tra di noi non sei fiducia ma la verità brucia mi trabito senza un perché ma vanno avanti senza di me non so più di te da perdere siamo fumo e cenere 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 io e te fumo e cenere all'amore non si credo più se al mio campo non ci sei tu tra di noi non sei fiducia ma la verità brucia mi trabito senza un perché ma vanno avanti senza di te non so più di te da perdere siamo fumo e cenere a presto a presto a presto a presto Allora abbiamo visto fumo e cenere che a parere mio è un capolavoro che io ti ho contattato tramite quella perché ho sentito che mi seguivo già da un po' però veramente bella e parlaci un po' di come è nata comunque questa canzone questo capolavoro questa canzone praticamente un giorno per caso apro facebook mi arriva un messaggio privato di Dema che praticamente aveva prodotto un beat e mi fa mi farebbe piacere che rappi qua sopra e io ho scaricato il beat l'ho ascoltato ed era una bomba pazzesca quindi io subito come l'ho ascoltato ho iniziato a scrivere e io sentendo quella base ho pensato a un tradimento a una cosa che potrebbe succedere a tutte le coppie magari a qualcuno gli è già successo e da quello che ho visto tanti si sono rispecchiati in questa situazione questa situazione e questa storia è nato tutto così la storia tra l'altro devo sapere un'altra gli attori del video è successo questo fatto ma veramente ma veramente veramente che storia che storia che storia è successo veramente prima di fare il video e io lo scelti come attori del video ma quello è anche stato ma tu lo sapevi ah non lo sapevo cioè io l'ho saputo dopo tipo poco dopo poco dopo penso che sia venuta anche a Genio perché comunque gli attori hanno recitato davvero hanno recitato bene ma hanno recitato bene perché l'hanno cosa sentita quindi figurati è come se due persone cioè uno tradisce l'altro e a un certo punto si incontrano devono fare una cosa insieme e gli dici recitate però alla fine entra anche un minimo di personalità esatto e lì hanno spaccato anche loro come personalità come prima volta che recitavano è stato veramente bravo ha fatto veramente un capolavoro un bel lavoro adesso poi passiamo alle altre domande allora ricordiamo che tu non sei solo un cantante ma anche un produttore sì quindi cioè com'è essere un cantante e un produttore comunque? allora è uno sbattimento allucinante prima di tutto no allora sai che cos'è la cosa difficile? e adesso mi sto dedicando molto di più alla scrittura e e meno alle produzioni però ogni tanto mi viene secondo ti viene quella cosa quell'ispirazione che dici oggi devo andare devo produrre qualcosa la cosa bella invece è che io produco il beat come piace a me quindi quello che ho bisogno io se riesci esatto se ho un'idea e dico oggi devo fare un pezzo dove l'argomento mi piacerebbe che sia che ne so l'amore o un pezzo contro gli infami o un pezzo contro quello o se no dove parlo di attualità di robe recenti la cosa bella mi metto produco e faccio una cosa cosa figa anche su me tipo che poi sei autonomo praticamente si 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 cioè automaticamente cosa faccio mi produco il beat registro mixo da solo faccio tutto da solo registro da solo capito quindi come un coglione come un coglione tu mi vedi qua con le cuffie devo registrare play boom corro tac stop torno indietro tutto così si è uno sbatt però è bello è una cosa poi comunque la cosa bella insomma è che puoi fare la melodia proprio come il piano come voglio esatto la scelta dei suoni si si come tu praticamente quindi è una cosa insomma è fighissima si una cosa figa e però ti ripeto ultimamente sto un attimo abbandonando non proprio abbandonando lo sto un attimo lasciando un po' da parte il lato delle producere ma perché a me voglio dedicare ad altre cose si si no poi ci saranno ci saranno tante news tante news delle toste la prossima domanda che ti farei molto se ci dirai qualche spuntatina di qualche news cioè i tuoi progetti futuri se puoi accennarcene e dircene un po' comunque e sto lavorando sempre all'album al mio album ufficiale che diciamo è il mio primo album solista e dove tra l'altro dentro ho un bel po' di collaborazioni un bel po' di featuring un bel po' di featuring anche prima mi hai accennato qualcuno che non posso dire però mi hai accennato qualcuno ok ti hai accennati alcuni no vabbè ma lo posso dire non c'è niente di allora il primo featuring Vincenzo Dovian Fossi Hans Benz il secondo è Lord Madness poi ho al 100% sicuramente degli amici miei principalmente sono Eukid e Dido che ne approfitto per salutarli e grande e dopodiché ci sarà Vacca in un pezzo in collaborazione ci si Vacca Fit Bucci e me siamo in tre poi ci sarà Bro della Charedi Money ci sarà Al salutiamo Al grandissimo e tra l'altro c'ho un'introduzione di Maxi B ah porca vacca grandissimo Maxi grande per la pazienza e e tutto e e basta e le varie produzioni curate da me DJ Andrew e Demabit quindi come produzioni esatto come produzioni si è bello comunque sei dietro anche tu esatto le produzioni ci sono anch'io dietro è una cosa figa comunque secondo me si poi prossimamente uscirà il videoclip della traccia con Vacca ah ok quindi in anteprima estratto dal disco bomba super bomba esattamente se facciamo una cosa la facciamo bene proprio no ci sta anche il video si ci sta comunque sia una cosa una cosa bomba e non ce la facciamo più a tenerla lì nel cassetto cioè vogliamo farla uscire perché veramente ho tantissime cose da far ascoltare a tutti alla gente che mi segue la gente che non mi segue quelli che mi odiano quelli che sto sul cazzo che mi amano però veramente tante cose poi tra l'altro c'è un mixtape che sto facendo con Bro tutto su basi americane assolutamente un bel mixtape quindi un bel mixtape bello trap club una cosa bella americano esatto e poi sto facendo un piccolo EP mio EP mixtape chiamiamolo perché anche lì le basi saranno sempre americana americane e di cui due produzioni sono curate da me però non è nulla di gigantesco tipo un progettone l'unico problema è che ho mille cose da fare e non riesco mai a trovare il tempo c'è un casino si accavalla una cosa dietro l'altra finisco una cosa però nel frattempo anche noi siamo riusciti a rubarti questi dieci minuti di intervista no ma figurati poi innanzitutto ringrazio anche a te per lo spazio grazie a te del tempo dedicato e per tutto ho visto i lavori sono una bomba continua così anche tu che secondo me spacchia passione nel lavoro che fai mi piace fare questo grandissimo tu mi capisci comunque se è una cosa che piace bravissimo l'importante è che cioè se hai la passione coltivi questa passione vedrai anche arrivi dove cazzo di fare avere pazienza nelle cose come in tutto pazienza per forza adesso ci ho parlato sempre di te adesso parliamo un po' di me e del mio canale così no scherzo però volevo chiederti un po' un tuo giudizio sul nostro canale cioè sul mio canale intervista al ref cosa ne pensi allora cosa penso allora io ho visto praticamente un po' di interviste mi sono piaciute mi piace il metodo mi piace la semplicità il modo di essere proprio bravo sei proprio semplice nelle interviste quindi nel senso non sei quello che si mette lì robe vai è più una parlata tra amici bravissimo bravissimo hai detto la cosa giusta una chiacchierata tra amici bravo che secondo me nelle interviste ti senti anche molto più a tuo agio in una situazione del genere che magari in altre situazioni dove sei dove hai mille occhi puntati mille cose devi stare attento occhio se sbagli occhio no quello si anzi poi io una figata sono contento mi è piaciuto il tuo canale mi piace il modo in cui fai le tue interviste secondo me mi spacchi nel modo in cui lo fai si se no poi comunque come nella music comunque sono migliora cioè cambiando piano piano certo piano piano si migliora si migliora comunque spaccato grande Luca noi ti ringraziamo e grazie a te sponsorizziamo anche questo studio qua se si può minchia Hredi Studio raga perfetto e veramente una persona io non so come dirla mi sono trovata davvero bene bella intervista al rapper grandi raga yayar 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 yay yay yay